ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ambientato a Samai Shuno è un video di stop motion per presentarvi in anteprima la residenza della generazione rossa della Not So Very Challenge, la Legacy Challenge che potete sempre seguire qui su YouTube è l'appartamento 701 Zen View, buona visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti